Questa è la legittimazione. E questo ci dice qualche cosa sopra il fatto che spazio e tempo sono collegati fra di loro, ma non sempre hanno lo stesso peso perché sia possibile pensare attraverso di essi la politica. Vi sono politiche che sono più orientate verso lo spazio, politiche che sono più orientate verso il tempo. Di solito lo spazio, ma di solito lo spazio è la dimensione della stabilità e il tempo è quello del movimento instabile, potrebbe anche essere però il contrario. Ad esempio in età moderna a un certo momento si afferma l'idea che lo spazio è precisamente un vuoto e quindi non fornisce nessuna stabilità e il tempo invece, interpretato come tradizione, fornisce e anzi l'unica dimensione della stabilità. Ma a questo arriveremo. Detto questo, dobbiamo fare un passaggio meramente cursorio sopra la dimensione spazio-temporale propria della tradizione cristiana della politica, che è una tradizione millenaria che ha evidentemente una caratteristica, cioè il tempo qui non ha la insussistenza che abbiamo veduto in Platone. Qui il tempo conta, conta perché vi è un evento. Il tempo non è l'insieme degli eventi casuali del mito greco. Platone non c'entra niente col mito, ma insomma il mito vi dà l'idea del fatto che il tempo possa essere pensato come non lineare, come quasi insensato, pieno di infinite varianti. No, non è questo. Platone non lo pensa così, lo pensa in modo diverso e subalterno rispetto allo spazio dal punto di vista politico. Il cristianesimo. Roma pensa il tempo a partire da se stessa. Il cristianesimo. Roma pensa il tempo evidentemente a partire da Cristo. Lì c'è l'evento che non è che dà senso al tempo, lo costituisce, lo mette al mondo. C'è tempo perché c'è stato Cristo, che solo rispetto a Cristo si può dire un prima e un dopo. E questo è un'idea di tempo evidentemente teleologica, perché nel cristianesimo è contenuto non soltanto l'evento dell'incarnazione, della morte e della resurrezione, ma è contenuta la promessa del ritorno. E quindi vi è con ogni evidenza l'idea di un tempo umano che ci viene consegnato perché ne facciamo qualche cosa, in attesa che si spenga il tempo con la parousia. E al tempo stesso c'è un'idea di spazio evidentemente universale. Sta scritta nel nome del cristianesimo che si insedia a Roma, che è cattolico, cioè per l'appunto universale, in continuità addirittura sfacciata con l'universalismo teorico dell'impero romano, in sinergia perfetta con quell'universalismo, e poi si fanno i conti con quello che si può fare. Ma insomma c'è lo spazio, sì, lo spazio universale. L'universalità dello spazio nasce dalle parole di Gesù. Quando dice euntes docete, manda in giro per il mondo il cristianesimo. Non dice arrivate fino a un certo punto e poi fermatevi. Dice euntes, andatevene pure in giro per il mondo e portate la notizia che io ci sono e ci sarò. Allora, universalismo. L'universalismo del cristianesimo, poi quello cattolico in modo peculiarissimo, implica uno spazio universale evidentemente, e tuttavia è uno spazio universale molto diverso, molto diverso dal nostro spazio universale moderno. Perché è molto diverso? Ma perché è uno spazio pieno, non è uno spazio vuoto. Pieno di che cosa? Pieno di tutto. Nella provvidenzialità del gesto delle euntes docete, andate e insegnate, c'è anche l'idea che troverete sempre un terreno sicuro su cui mettervi i piedi. Non troverete mai il non spazio, il non essere, il nulla. Perché? Ma perché? Ma perché c'è all'origine un'idea di creazione estremamente positiva, come si dice, vide le cose che aveva creato e vide che erano molto buone. valdebona. E quelle cose sono infinite e tutte diverse. Non è sent omnia, si è sent equannia. Cioè l'idea è del Dio creatore di una spazialità solida, illimitata e piena di infinite qualità. Qui abbiamo... E questo è il motivo per cui il Timeo veniva letto e trovava una corrispondenza con il sentire cristiano. Nel Timeo non c'è la creazione, c'è un demiurgo, però c'è l'idea che ciò che esiste è segnato positivamente, ha un rapporto positivo con l'essere e che contiene ogni possibilità. La creazione è la creazione dell'essere multiforme, senza che questa multiformità sia disordine. un esempio. Un esempio molto tardo. Pensate a come uno dei processi, uno dei processi per cui la visione, non ordinata, ma ordinabile del mondo, ontologicamente fondata. Cioè di uno spazio solido, pullulante di esseri diversi, anche più fantasiosi, ma tutte creature di Dio. Poi naturalmente c'è anche il peccato, c'è il peccato e quindi c'è l'esigenza non soltanto di andare a insegnare, ma anche di andare a reprimere, di andare a spazzar via anche i mostri, anche i mostri. Certo, di fare tutto quello che è necessario fare perché si torni all'ordine. A un ordine che è complesso, ma che non è in linea di principio da mettere in discussione. Spazio solido dentro un tempo di cui si conosce l'inizio, di cui si aspetta la fine. Pensate a come questo schema di ragionamento è capace di includere ciò che invece per una buona parte dell'umanesimo è rimase difficile da digerire, cioè la scoperta dell'America. Il grande trauma, uno dei due grandi traumi da cui nasce la modernità, l'altro sono le guerre civili e le religioni. La scoperta dell'America per il sapere di impronta classica e qui c'è il libro di Gerbi che va conosciuto perché dà conto di una delle enorme varietà delle prese di posizione della cultura europea fino al Settecento davanti all'America. Ma insomma potremmo dire grosso modo che dalla scoperta dell'America la cultura umanistica resta spiazzata. Cioè lì c'è un mondo che non è riconducibile alla radice greco-romana, meno che mai alla classicità insomma. E come invece se ne è impadronito? Quella scoperta, il descubrimento, è stato digerito dal sapere cristiano, teologico, che naturalmente si è diviso fin da subito sull'idea che se quegli strani esseri che abitavano quello strano mondo fossero omines o omunculi, è certo, se fossero liberi per natura o se fossero schiavi per natura. E qui si servivano quelli che conservavano questa idea si servivano di Aristotele e della sua idea di coloro che nascono schiavi per natura. Ma vinse molto presto l'interpretazione che quelli fossero omines dotati di anima immortale come la nostra e quindi che è verso di essi che avessero il diritto naturale che l'uomo come animale politico ha di governare se stesso e le società umane di governare se stesse e avessero il diritto di ricevere la buona novella da cui molti dei loro problemi poi. Ma adesso lo spieghiamo. Ma voglio dire questo lo vediamo dal punto di vista politico al di là dell'antropologia e della teologia lo vediamo in Francesco De Vittorio il quale nelle prime due reelecciones cioè De Indis e degli rebelli ragiona con estrema sicurezza in termini di universalismo cristiano e vede in questi abitanti del nuovo mondo i barbari vede degli uomini vede degli uomini che ai quali ci si deve rapportare con le medesime categorie con le quali ci si rapporta agli uomini europei sono diversi hanno attitudini curiose sono una manifestazione della onnipotenza creatrice di Dio sono interessanti hanno un mucchio di vizi e di peccati ma non lo sanno e allora bisogna andare a insegnarglielo che conducono una vita peccaminosa senza che questo è molto notevole la loro peccaminosità tolga loro il diritto di essere di governarsi da soli ciò che gli fa perdere questo diritto semmai è che fanno resistenza alle due forze che là come qua ecco la straordinaria la straordinaria mancanza di percezione di una differenza qualitativa universalismo spinto la coltivazione e l'altro vettore universale la predicazione ecco chi si oppone a queste due a questi due vettori universali a queste due propellenti dell'umana civiltà a queste due forme di conquista dello spazio deve essere fatto oggetto di guerra giusta di guerra giusta perché proprio si mette dalla parte del torto una guerra giusta che è tale sulla base di un'idea di tempo cioè perché è giusta ma perché noi siamo cristiani e il cristianesimo che cos'è è un'idea di tempo e di fine del tempo ecco allora una guerra giusta che il cui esito può essere che ad esempio in nome della carità e dell'umanità perdono per un certo periodo di tempo il diritto di governarsi finché non vengono educati e civilizzati da chi con buona volontà in questo caso gli spagnoli porta a loro la nozione della civiltà dunque non da punire in quanto inferiori non da punire in quanto peccatori non sono ontologicamente inferiori sono inferiori perché non hanno il cristianesimo ma non è colpa loro è una invincibile ignoranza dice Vittorio sono inferiori perché sono peccatori ma non lo sanno non sanno che la sodomia non va bene che il cannibalismo non va bene glielo insegneremo più presto quello che conta è che la macchina concettuale della politica cristiana fondata su una certa idea di spazio su una certa idea di tempo accoglie senza problemi la grande novità del descubrimiento e dell'esistenza di un'umanità diversa da quella che si è conosciuta guardate la scoperta è uguale tecnicamente allo sbarco dei marziani in Europa se ci fosse c'è veramente qualche cosa di inaudito bene il mai visto e mai udito gli apparati categoriali dell'universalismo perfezionato del cristianesimo a base non etnica a base cristologica e imperiale sono in grado di spiegare di dispiegare una capacità di accoglienza che è una capacità ovviamente di collocazione subalterna ma provvisoriamente subalterna di Grazie.